Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. In una recente puntata di Dritto e Rovescio, il talk show condotto magistralmente da Paolo del Debbio su Rete 4, si è verificato un acceso confronto che ha portato all'allontanamento, per motivi di sicurezza, di un giovane ospite di origini nordafricane noto come 21 Criminal, membro dei famosi Maranza. L'intervista aveva l'obiettivo di esplorare il fenomeno della violenza giovanile e della microcriminalità a Milano. Durante il dibattito, il giovane ha espresso apertamente le sue frustrazioni e ha lanciato accuse provocatorie allo Stato italiano, definendolo la vera mafia e attribuendogli la responsabilità delle discriminazioni subite. Del Debbio ha cercato di moderare la discussione sollecitando spiegazioni sulle affermazioni diffamatorie, ma il comportamento inappropriato del giovane ha suscitato l'indignazione del pubblico in studio e a casa. Il conduttore ha interrotto l'intervista quando il giovane Maranza ha rivolto minacce di morte, chiamando immediatamente la sicurezza per allontanarlo dallo studio. L'incidente ha generato un ampio eco mediatico, con commenti e reazioni del pubblico e di figure politiche, inclusa l'approvazione del ministro e vicepremier Matteo Salvini tramite i social media. Salvini ha sottolineato la necessità di una tolleranza zero verso tali atteggiamenti. L'episodio ha evidenziato non solo le tensioni sociali esistenti, ma anche le difficoltà nel gestire dialoghi costruttivi su temi così sensibili in contesti televisivi.